Grazie a Noporcu, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, voi avete dato un allarme importante riguardo il parcheggio multipiano di via Brigata Sassari? Sì, abbiamo dato un allarme importante ma è l'ennesimo modo di fare politica in maniera errata, oggi senza nessun tipo di bando assegnano un parcheggio, un parcheggio che invece dovrebbe essere a disposizione della comunità, ma è l'ennesimo modo di fare politica di questa amministrazione, l'incapacità totale, l'assegnazione, qualsiasi cosa non si riesce a gestire la si dà ad esterni, è un po' come il papà che non riesce ad educare i figli e li manda in collegio, questa è la stessa situazione, tutto quello che non porta utili, un parcheggio è un servizio, Alghero è carente di parcheggi e invece di dare un servizio alla cittadinanza si dice che non porta utili, ma chiudiamo gli asili a questo punto, chiudiamo le scuole, vogliono ricreare un centro sinistra, sono persone che tutto quello che non porta utile lo si chiude, lo si assegna a qualcun altro, ma questo non è un modo di gestire, questo potrebbe essere giustificato da una politica di centro-destra, non di centro-sinistra, uniscono il centro-sinistra, cercano di unire il centro-sinistra e fanno la politica della peggiore destra, nessun servizio ai cittadini a meno che non ci porti inutile, chiudiamo gli asili, chiudiamo le scuole, chiudiamo gli ospedali, a questo punto non portano utile. E voi avete parlato di autotutela, è l'unica strada? Io penso che dovrebbe essere, a questo punto dovrebbe essere l'unica strada, perché è l'ennesimo affronto, abbiamo i precedenti in questa città di bandi un po' particolari, io poi non voglio entrare nel merito, abbiamo denunciato tutte le volte scuolabus, persone che perdono posti di lavoro, palestre, oggi un parcheggio in centro-città, ma io dico, ma a Sassari un euro, si parcheggia tutta la notte, diamo servizi ai cittadini, i cittadini stanno urlando perché non ci sono servizi, non hanno nettezza urbana, parcheggi, questi sono i temi che deve affrontare un sindaco che è in grado di governare una città, tutto il resto lo fanno gli imprenditori, tutto quello che porta soldi, gli investimenti per far sì che arrivino dei soldi lo deve fare un imprenditore privato, non chi governa.